Che cazzo vi taggate nei tiktok virali su Zana? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi tu di questo? Cosa ne pensi della sua situazione? Cosa ne pensi che? Che cazzo vi deve dire? Ma cosa vi deve dire? Cosa vi deve dire una persona che vi ha detto che sta sotto antidepressivi perché soffre di ansia, soffre di quello, ha avuto dei problemi? Vi ha dicendo uno che cosa vi deve dire? Mi sono arrivati DM di gente che dice oh Comunque non mi sembra che tu stia molto appresso a Zana Dovresti stargli un po' più appresso Ma c'è, allora, fammo sul serio o non fammo proprio? Nel senso Donna regà, ma già che uno si apre e dice delle certe cose Ma lasciatelo perde Ma vi pare che dovete andare a chiedere all'arte? Non è che ogni cosa che succede nel mondo deve avere il pensiero esposto di un'altra persona pubblica Perché non c'è alle volte senso e soprattutto mi dà fastidio quando chiedete l'opinione di qualcuno Perché sembra quasi che la state a chiedere in maniera della serie Cosa devo dire? Cosa devo pensare io di questa persona? Te lo chiedo a te così che almeno poi prendo quello che dici tu e lo assimilo nella mia persona Pensateci voi Pensateci voi, solo che poi non ci pensate se poi leggo delle streaming degli altri Oh, ma Zano dov'è? Non è idea che chiede Zano dov'è Prima cosa perché non mancate di rispetto alla gente che sta streamando Quindi poi io devo eliminare i commenti su Zano e la gente mi scrive Elimini i commenti su Zano Secondo voi perché già ve l'ha spiegato lui? Cristo di Dio Basta Basta